Alla scoppiare del conflitto in Ucraina si è subito mobilitata per portare sopporto alle popolazioni in fuga, organizzando diverse missioni di aiuto e recandosi personalmente nei territori di Weber, con l'associazione Mediterranea Saving Humanus, di cui oggi è il presidente nazionale. Il premio ha la sua storia di attivista, ma soprattutto il suo essere donna di pace. Laura Marmorale incarna l'impegno sociale nel senso più ampio e pieno, declinato in modi moltiplici ma avendo sempre lo stesso obiettivo, quello di restare umani. Oggi per un importante riconoscimento a Mediterranea Saving Humans, Laura Marmorale, la responsabilità sociale. Sì, sono molto emozionata, tutta Mediterranea è molto contenta e grata per questo riconoscimento e perché è importante che fra realtà, enti e organizzazioni che si impegnano nella presa in carico dei più fragili e nell'abbattimento delle barriere che ci sono fra le persone, ci si riconosca, ci si incontri e si rilevi il lavoro e l'intervento. Noi non abbiamo fatto nulla di più di quello che era necessario e doveroso fare, ma siamo molto felici di essere e qui sta a cercare. Grazie. 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 Grazie.